Buonasera, bentrovati, siamo agli sgoccioli ormai. Sta per finire questo bellissimo festival, che ha visto una grande partecipazione, e chiude in bellezza, con due personaggi quanto mai interessanti, che ci traghetteranno questa sera, sempre stando all'interno dell'orizzonte tematico generale, che è quello della violenza, politica e violenza, però ci traghetteranno in un'area specifica, che è quella del cinema, che è già stata toccata qualche giorno fa in un altro incontro, con Gianfranco Bettin e Enrico Ghezzi. Il cinema torna sulla scena questa sera con il professor Umberto Curi, che ha insegnato come professore ordinario di storia della filosofia all'Università di Padova, ora insegna, collabora con il San Raffaele di Milano, e è stato per tanti anni presidente del mitico Istituto Gramsci Veneto, e poi diventato anche Istituto per gli Studi Filosofici, con il quale abbiamo fatto un sacco di belle iniziative, convegne, e questo Istituto purtroppo da un po' di anni non c'è più, ma c'è questa bella iniziativa, c'è la Fondazione Pellicani, che in qualche modo forse sta proseguendo quel cammino. Il professor Umberto Curi, non dico tutti i libri che ha scritto, perché andremo avanti due orette, cito solo qualche titolo relativo, se non altro, al tema di questa sera. E no, citiamo prima l'ultimo, uscito da poco, per Bollati Bollingheri, L'apparire del bello, nascita di un'idea, ma si è interessato di tantissime cose il professor Curi, e intorno al cinema vi consiglio caldamente un piccolo libricino uscito da poco, per una piccola casa elettrice, ma molto bello, La verità del cinema, e poi un libro di qualche tempo prima, uscito per Bonpiani, Un filosofo al cinema, ma sul cinema Umberto Curi lavora da tanto, ha scritto, ha parlato moltissimo, così come intorno al cinema ha scritto, insegna, si interessa da tempo, Michele Gottardi, che è appunto l'altro nostro ospite, docente, non a caso, di filosofia e critica cinematografica, quindi siamo proprio nella cosa. È anche collaboratore di vari quotidiani, ma è stato anche Michele Gottardi, il professor Gottardi, che tra l'altro, adesso parliamoci sinceramente, è stato anche un mio compagno di studi, quindi noi ci conosciamo dai tempi dell'università, quando eravamo studentelli, è stato anche presidente dell'Ateneo Veneto, un'importante istituzione veneziana, ed è anche membro del Comitato Scientifico dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti. Quindi a Venezia ha occupato ruoli significativi e ha scritto un libro, anche lui, specificamente rivolto al cinema, Oltre il Giardino, riflessioni tra il cinema e la realtà, quindi siamo proprio, direi, in compagnia dei due esperti della materia. Il tema di questa sera, abbiamo poi deciso di declinarlo in questo modo, è proprio cinema e violenza. Dico due parole introduttive, poi lascio la parola a loro, e poi vedremo di innescare un proficuo dialogo, mi auguro. E il cinema nasce in modo violento, in che senso voi direte? Tutti sapranno, qualcuno non lo saprà, ma quasi tutti lo sanno, che gli spettatori della prima proiezione cinematografica dei famosi fratelli Lumière, che, come dire, inquadrava l'arrivo di un treno in stazione, fece terrorizzare gli spettatori, scapparono via, impauriti, come se il treno venisse a travolgerli. Quindi il cinema, in fondo, nasce come violenza, no? In fondo. Ma, però il titolo dice, in verità, cinema e trattino o violenza, che è una cosa diversa dire e violenza o violenza, perché il cinema nasce in forma, tra virgolette, violenta, ma il cinema rappresenta da sempre la violenza, ma la violenza viene rappresentata da tantissime altre forme d'arte. Anche gli apparentemente innocui film western sono intresi di violenza. Per non parlare dei famosi film ormai entrati nella storia arancia meccanica di Kubrick, rappresentazione della crudeltà. Per non parlare del più recente Tarantino e i suoi film, per non parlare della moda abbastanza recente così intensa, nella misura intensa in cui tutti la percepiamo, la moda dei film horror. La violenza, insomma, è un argomento privilegiato del cinema, ma il cinema non è solo ciò che rappresenta la violenza, vedremo con quali implicazioni, il cinema forse ha a che fare intrinsecamente con la violenza, non lo so, vedremo di capirlo. violenza, si è parlato tanto di violenza in questi giorni, no? In modo non violento si è parlato, mi pare, però si è parlato di violenza. La violenza, tra le tante cose, tra le tante possibili definizioni della violenza, c'è questa, che la violenza ha a che fare sempre con un gesto di esclusione, in qualche modo. e il cinema in fondo cos'è se non un ritaglio, lo schermo è un ritaglio che in fondo anche esclude il mondo esterno, si proietta in una realtà che si costituisce quella cinematografica a partire da un'esclusione. Quindi, forse ha a che fare anche nella sua forma, nella sua tecnica con la violenza, non lo so, vedremo poi nel corso della discussione. Io adesso chiederei a Michele Gottardi, critico cinematografico, di iniziare questo percorso, questo viaggio, di accompagnarci in questo viaggio, anche magari suggerirei, giocando proprio su questa ambiguità cinema e cinema o violenza. Grazie. Bene, buonasera. Partiamo proprio dalla slash, partiamo dalla sbarretta. e o violenza. Esiste un'estetica della violenza nel cinema? Sicuramente sì. Ed è una vera violenza e su questo cercheremo di, se non di trovare una risposta, quantomeno di riflettere attorno a questo. C'è una violenza del bello? Ecco, questa è, credo, la chiave di discussione su cui probabilmente gli organizzatori quando ci hanno detto di dire due parole hanno pensato potessimo provare a sviscerare e approfondire. Cioè, l'estetica del bello sicuramente esiste, come vedremo, di alcuni registi in parte, alcuni già chiamati in causa del nostro chairman, nel senso che esiste una violenza che il cinema raffigura, perché il cinema, lo diciamo subito, è lo specchio della realtà, che lo sia concepito come un film neorealista, un film di impegno civile, un film di inchiesta, secondo la tradizione italiana o americana, o che sia un film di puro divertimento, divertismo alla Tarantino, comunque sia, il cinema rappresenta la realtà. E dunque, in quanto, appunto diceva anche Massimo prima, questo fermo immagine, questo frame che esclude nel momento in cui ferma, racchiude un istante ne esclude mille altri, è sicuramente comunque un'immagine della realtà. Il problema che però riguarda più questa sera credo che si possa mettere su due piani, quello dell'estetica della violenza, ovvero di chi usa una violenza che molto spesso è fine a se stessa, quindi quella contro la quale i moralisti spesso si scatenano non cogliendone l'effetto assolutamente provocatorio, Tarantino, però potremmo citare tutta la scuola giapponese Kitano, Johnny Woo, Johnny To, scusate, e comunque la scuola di Hong Kong, di chi fa della violenza una apoteosi pirotecnica che si capisce immediatamente essere puramente spettacolare e chi invece usa la raffigurazione della realtà in modo altrettanto violento ed anche questa è una violenza ma è la violenza del linguaggio non è la più la violenza estetizzante di un certo tipo di cinema ma è la violenza del linguaggio una violenza che ha come fine quello del raggiungimento dell'informazione del raggiungimento della verità da parte dello spettatore il regista cerca di trasmettere qualche cosa che giunge al fruitore dell'opera dell'opera chiamiamo l'opera d'arte in questo caso quindi dell'opera cinematografica e gli accresce alcuni contenuti gli dà alcuni contenuti in più il caso più evidente come dire nella nostra tradizione del cinema di impegno civile è tutta la filmografia di Francesco Rosi perché forse il cinema di Rosi non è un cinema violento sia quando fa il bandito Salvatore Giuliano quando fa Cadaveri Eccellenti che forse il cinema di Garrone non è violento quando fa quando fa Gomorra anziché il cinema della grande bellezza anziché il divo anziché tutta l'ultima parte di questo cinema che in due modi diversi mostra una violenza perché è una violenza che insita all'interno della volgarità stessa della società italiana butto lì alcune riflessioni ovviamente poi c'è un altro regista che fa una violenza sui corpi come Cronenberg che riflette attorno al corpo come una sorta di prosecuzione fisica della mente e quindi tanto le persone sono compresse dal punto di vista psicoanalitico psichico e più i loro corpi assumono delle deformazioni ma tutto questo trova la sua massima violenza nel reality i reality sono una forma di violenza perché esprimono una volgarità culturale che ha fatto dei danni negli ultimi vent'anni della storia italiana di cui solo oggi cominciamo a percepire le conseguenze e anche qui reality il film ha mostrato qualche cosa dunque e lo dico nel senso molto provocatorio è forse più violento il cinema in certe sue raffigurazioni politiche in certe sue metafore politiche di certe raffigurazioni certamente che destano orrore come le decapitazioni dei talebani o dei guerrieri dell'isis perché anche quelle sono messe in scena di violenza ma è una violenza che è conclamata è una violenza che è tale dal momento in cui si accende la camera vi è una violenza molto più strisciante su cui io vorrei parlare oggi vorremmo che ne parlassimo oggi vorrei che ne parlassimo oggi ed è la violenza delle immagini la violenza del linguaggio sia quello che sceglie il regista che si prefigge un'operazione di verità e qui si potrebbe dire se la verità è o slash o non è rivoluzionaria è o non è violenta sia invece quella ed è ancora molto più pericolosa di chi presentando magari una situazione idilliaca un happy end non fa invece appello a una situazione molto più violenta io qui mi fermerei per un primo intervento grazie queste iniziali ma già intense suggestioni farei continuare ad Umberto Curi per poi avviare il dibattito sì buonasera ben trovati a tutti io credo che riprenderò alcuni spunti proposti sia da Massimo Donati che da Michele Gottardi però come vedrete mi incammino su un percorso probabilmente anche più accidentato forse più impegnativo che mi porterà ad alcune conclusioni che sono abbastanza diverse rispetto a quelle che ci hanno proposto però mi sembra molto chiara molto utile molto significativa l'impostazione generale che è stata data alla discussione questa sera a cominciare da distinguere per quanto riguarda il rapporto tra cinema e violenza tra la dico con parole mie tra il cinema che punta a rappresentare la violenza e il cinema a cui si è riferito tanto Massimo quanto Michele il cinema esso stesso violento starei per dire proprio nella sua quintessenza violento e allora lasciate che mi soffermi sia pure brevemente su entrambe queste diverse declinazioni del rapporto cinema violenza a cominciare dalla prima e cioè come il cinema rappresenta la violenza ma ancora più originariamente è possibile rappresentare la violenza cioè possiamo davvero dare per assodato che questo tema si presti di per sé a essere rappresentato e che si tratta semplicemente di scegliere tra forme diverse di rappresentazione o non c'è un interrogativo ancora più radicale che riguarda proprio la rappresentabilità della violenza allora per argomentare in rapporto a questo interrogativo quelli che mi conoscono sanno che ho questa cattiva abitudine io penso che sia necessario fare un po' un passo indietro dal punto di vista storico un riferimento alla matrice della cultura occidentale cioè al grande pensiero alla cultura greca arcaica che ha al centro il tema della violenza non dobbiamo dimenticare che il primo documento letterario che inaugura a una lunga tradizione culturale occidentale è dedicato alla descrizione di una guerra cioè di quello che abitualmente viene considerata l'espressione più compiuta della violenza di una guerra che dura dieci anni non solo ma la prima parola che viene pronunciata nell'Iliade è una parola che allude alla violenza cioè collera la collera l'ira di Achille per le vicende che tutti ricordiamo dei banchi di scuola ma il problema è che se ci riflettiamo anche se non abbiamo molto il tempo per soffermarci in realtà l'Iliade non rappresenta la violenza non la descrive l'Iliade è tutta dominata dalla figura della Gon cioè del duello leale non del combattimento scomposto starei per dire volgare dell'attacco come quello che vediamo come dire nelle rappresentazioni cinematografiche olivudiane tutto avviene dicevano alcuni studiosi andantelli in merletto tutto avviene secondo regole conformemente a un ordine e ciò che viene emergendo nei vari duelli più che l'uso della forza tanto meno della forza brutta sono le qualità morali dei protagonisti sicché anche se il tema è la guerra io non credo che si possa dire che l'Iliade è la rappresentazione della violenza ancor meno l'odissea c'è un unico episodio emblematico se lo avete presente è notissimo anche lì assistiamo a una sorta di duello ed è un episodio emblematico perché è un duello tra la vera e propria incarnazione della violenza che in greco si dice via e cioè polifemo e l'incarnazione invece della metis cioè di quella capacità di vedere di essere scaltro di cogliere le opportunità che si offrono e cioè Ulisse e non c'è partita nello scontro tra la violenza allo stato brutto animalesco di polifemo nello scontro tra la via e la metis stravince la metis e polifemo già menomato nella vista perché monocolo viene poi definitivamente accecato da Ulisse che si giova appunto della sua scaltrezza della metis e quando invece troviamo come dire più esplicitamente proposto il problema della rappresentazione della violenza qui secondo me il riferimento che faccio frequentemente perché a mio giudizio è un punto di passaggio decisivo è costituito da quel straordinario capolavoro che è il prometeo incatenato di Eschilo dove come molti di voi ricorderanno è veramente decisiva la scena iniziale l'antefatto lo conosciamo prometeo ha violato la sfera di attribuzione degli dei rubando qualcosa da donare agli uomini questo sacrilegio viene duramente sanzionato da Zeus che ordina che prometeo venga incatenato a una rupe del caucaso e la tragedia comincia a questo punto la prima scena vede prometeo che sta per essere incatenato alla rupe e poi vi sono tre personaggi uno è Efesto che è stato inviato da Zeus per dirigere le operazioni di incatenamento poi vi è Kratos uno dei due sgherri di Zeus che si applica a far penetrare i chiodi e che contemporaneamente irride schernisce prometeo lo insulta e poi c'è un ultimo personaggio personaggio a mio giudizio decisivo che al tempo stesso costituisce un'anomalia per tutta la tradizione drammaturgica successiva è un personaggio che è presente in scena di cui troviamo sempre menzione nelle dramatis persone cioè nei personaggi del dramma ma che non dice una sola parola e non agisce non fa nulla è solo presente in scena questo personaggio si chiama via violenza la sola presenza della violenza ne garantisce e noi potremmo dire l'effettualità la violenza per realizzarsi non ha bisogno di parole è muta pensate un personaggio teatrale che sta in scena non dice neanche la cena è servita come diceva il maggiordomo che abbiamo bene in memoria muto e neppure agisce perché è Kratos quello che inchioda Prometeo e tuttavia con la sua presenza esprime la violenza ecco ho finito questo riferimento a mio giudizio dovrebbe servirci dovrebbe esserci presenti per far capire fino in fondo la portata del problema e cioè quando all'inizio della nostra tradizione ci si pone il problema di rappresentare cioè di presentare mettere in scena far vedere la violenza questa violenza compare muta e inattiva quasi a dire che la sua presenza e quindi anche la sua efficacia non dipendono né dal logos dalla parola pensiero e non dipendono neanche dalle azioni concrete che può fare ma allora e mi fermo almeno provvisoriamente c'è da domandarsi fino a che punto il cinema ha interiorizzato questa che secondo me è una lezione fondamentale fino a che punto il cinema ha preso veramente atto della irrappresentabilità della violenza nel modo in cui abitualmente pensiamo la rappresentazione o non ha seguito invece per lo più la strada più facile di esibire gli effetti della violenza le conseguenze della violenza i risultati senza misurarsi con questo drammatico enigma che è la violenza nella sua peculiare identità grazie Umberto sei tornato all'antica Grecia ma in modo credo molto utile per inquadrare la questione vi rilancio la palla allora nel tuo discorso caro Michele allora hai posto alcune questioni interessanti facendoci intravedere che in fondo una cosa è la rappresentazione della violenza un'altra cosa è la denuncia della violenza allora è possibile pongo questa questione una rappresentazione che voglia farsi denuncia della violenza che non si trovi inevitabilmente o comunque con buone probabilità a mascherare anche la violenza che vuole denunciare a come dire depotenziare quella portata che ha la violenza perché quello che diceva Umberto infatti è interessante perché ci dice attenzione che i greci gli autori da lui citati almeno erano in qualche modo consapevoli che la rappresentazione della violenza è sempre anche un depotenziamento della violenza non a caso hai detto nell'Eliade la violenza diventa qualcosa di originariamente inscritto in un ordine che diventa come appunto una danza che ha perso completamente la portata della violenza che forse può emergere può emergere solo se la si coglie come condizione originaria non tanto come ciò che si manifesta ciò che si manifesta forse è espressione di questa violenza ma nel manifestarsi non può che assumere un ordine una forma armonica che riesce a costituirsi qui vi provo con un po' forse paradossalmente violentando la violenza perché se la violenza viene come dire depotenziata e mascherata e questo lo sappiamo tutti che accade sappiamo tutti che accade al punto tale che ormai certe immagini di violenza a cui tu facevi riferimento beh sortiscono un effetto che è totalmente inefficace siamo talmente abituati a certe scene di violenza che non si fanno nessun effetto là dove vogliono essere denuncia in realtà finiscono per iscriversi in quel fenomeno di estetizzazione della violenza che con la violenza ha ben poco a che fare allora appunto il cinema inviterei anche Umberto adesso ad entrare un po' dopo questa utilissima direi utilissima premessa entrare un po' nella questione cinematografica se il cinema si trova in questa contraddizione in questa situazione paradossale no? là dove la esibisce al massimo grado forse è quanto di più anacquato ci possa essere nei confronti della violenza ma allora come rapportarsi alla violenza il cinema ci sono delle forme cinematografiche che secondo il vostro parere invece sono riuscite ad afferrare la questione a porsi in rapporto a questa questione senza ottenere quell'effetto di anacquamento di pura estetizzazione che della violenza addirittura ha perso memoria sicuramente sì e pongo anche cerco anche di rispondere a quello che diceva Umberto Curi prima i grandi maestri del cinema della critica francese i maestri dei Cahiers dicevano che esistono solo due cose che non si possono raffigurare al cinema che non si che non si possono percepire nella loro realtà ontologica la morte e l'orgasmo tutto il resto è raffigurabile tutto il resto è rappresentabile quindi a ricordi logica anche la violenza e su questo come dire i critici dei Cahiers hanno fatto un'ontologia del cinema ma noi così in modo più divulgativo come dire pensiamo ad altre scene e vi farò qualche citazione proprio per qui sarebbe bello fare click e mostrarvi le sequenze che ho in mente ovviamente ma esiste un modo per raccontare la violenza che non è affatto violento ed è quello che si chiama il fuoricampo il fuoricampo non è solo l'azione del baseball quando la palla finisce fuori nel campo appunto del diamante il fuoricampo è semplicemente quando il regista decide di non inquadrare più la scena che sta avvenendo e voi magari sentite un'esplosione una scarica di un mitra un colpo il rumore freddo secco di un corpo che cade intanto magari la macchina inquadra la cima di quell'albero questo è il fuoricampo la violenza è evocata anche questa è una rappresentazione della violenza poi ci sono alcuni film che hanno ragionato sulla violenza uno è già stato citato in apertura arancia meccanica il fascino della violenza il fascino politico della violenza salò o le 120 giornate di Sodoma una sorta di sintesi finale peraltro in un momento che tra i tanti difetti di questo Pasolini che abbiamo visto alla mostra di Abel Ferrara una cosa fissa la violenza della società in cui si muoveva Pasolini nei suoi ultimi giorni di vita perché noi non ci dobbiamo dimenticare il 75 che anno era e quindi fare Salò in quegli anni aveva un senso politico fortissimo aveva un senso di grande lettura profetica e un altro film in cui il fascino della violenza c'è ma la violenza vera non è quasi mai raffigurata è quello che tutti noi credo abbiamo visto per venire più vicino ai nostri ed è il personaggio di Hannibal Lecter nel silenzio degli innocenti per cui Anthony Hopkins vinse l'Oscar come miglior protagonista recitando 19 minuti in un film di oltre due ore credo che sia l'immagine del male tolto il divo che è quello però un'altra cosa quello è un altro personaggio l'immagine del male non c'è un atto di violenza salvo la battuta finale che è ancora divertentissima poi la ricordiamo verso la fine sono stati più volenti i suoi epigoni o forse il Man Hunter che lo prevedeva prima il film di Michael Mann che era una specie di prequel e infine mi rifaccio un film che ha vinto un premio alla mostra del cinema adesso The Look of Silence di Joshua Oppenheimer questo documentarista americano che è vissuto in Indocina ha raffigurato in un primo film The Act of Killing qualche anno fa e ora questo ha testimoniato le stragi che vennero fatte verso i dissidenti di gran parte comunisti a metà degli anni 60 dal regime indocinese ebbene non ci sono immagini d'epoca ci sono i racconti gelidi nella loro atrocità dei protagonisti di allora quelli che hanno fatto le stragi che raccontano ridacchiando cosa facevano e come li ammazzavano ecco un altro modo di raffigurare la violenza un modo terribile il documentario è tutto incastrato tra silenzi interviste e il protagonista che è il fratello di uno massacrato che è nato poco dopo il fratello di uno massacrato che guarda una televisione dove scorre la registrazione delle immagini che sono state filmate in una casa deserta in cui c'è una sedia una televisione un mobiletto uno sgabello ecco questi sono segni questi sono modi di raffigurare la violenza che vanno al di là che sono nella logica credo Umberto di quanto dicevi tu cioè nel superamento formale i film su Troia sono quanto di più falso esistono ovviamente ma non perché partono sempre da un assunto perché ogni film che traduce o che trasporta sullo schermo un'opera letteraria è di per sé già un tradimento lasciamo perdere tutta la querels traduzione tradimento ma è chiaro che è così era meglio il film o era meglio il romanzo quante volte siamo usciti da un film di cui avevamo letto il libro dicendo questo e non non si può dire non è neanche giusto metterli assieme è come mettere assieme patate con pesche sono due cose diverse ogni film fa storia a sé però quando un film hollywoodiano su Troia mette in scena la morte di Ettore noi sappiamo che ha fatto una violenza ma non a Omero ma il fatto che ci sono delle cose che una volta non venivano nemmeno raffigurate e che il cinema invece ha la presunzione di raffigurare ecco questo è l'errore del cinema di pretendere di raffigurare tutto e quindi a questo punto diventa nella sua così ansia calligrafica ansia di raccontare a questo punto diventa è chiaramente insopportabile ecco anche dal punto di vista dello spettatore però ci sono dei modi di raffigurare la violenza che possono essere un po' complici anche il gusto di raffigurare lo squartamento di Ettore può essere complice quando però noi prendiamo il cinema di Scorsese noi sappiamo che Scorsese guarda verso il cinema verso i suoi protagonisti con l'occhio benevolo dei good fellas dei bravi ragazzi perché lui è cresciuto lì lui è vissuto in mezzo a loro molti di questi li conosce magari li ha conosciuti davvero quelli che mette sullo schermo ma non c'è compiacimento non c'è autocompiacimento c'è una presa di distanza c'è un distacco quello stesso distacco che evoca Sergio Leone quando prende il personaggio di De Niro in C'era una volta in America lo fa ritornare avanti e indietro tra il flashback e il momento della narrazione diegetica lo fa ritornare in quella splendida battuta in cui dice ma come sei tornato dove sei stato tutti questi anni ho dormito a lungo sono stato a lungo da parte lo metti in disparte così con una battuta di secondo piano avevo altre cose da fare ecco questa è la raffigurazione della violenza che non è complice che è invece ancora più evidente ancora più forte di un film di mafia in cui in un certo momento il numero dei colpi sparati sullo schermo è superiore alle vocali o alle parole che sono pronunciate grazie grazie Michele e diamo la parola a Curi adesso e dopo tra un po' lasciamo anche spazio alle vostre domande sì allora raccolgo l'invito di Massimo di venire al cinema di andare di procedere con la riflessione sul cinema e formulandolo questo percorso nella forma di un interrogativo e cioè secondo voi se abbiamo presente una certa nozione di violenza se l'abbiamo in mente anche alla luce delle cose molto interessanti importanti che si sono ascoltate in questi giorni e volessimo rappresentarla attraverso il cinema e come dovremmo procedere allora se noi guardiamo è passato più di un secolo dall'invenzione dei fratelli Lumière se vediamo un secolo di cinema beh possiamo dire che per lo più la risposta prevalente è abbondare in succo di pomodoro arti tagliati teste mozzate dettagli sempre più cruenti e sempre più come dire ricercati in modo da potersi sentire da poter essere convinti di aver rappresentato la violenza ma a voi sembra che quella sia una rappresentazione della violenza cioè voi provate a pensare sono numerosissimi film realizzati in questo modo in cui cioè si punta a suscitare il coinvolgimento emotivo dello spettatore e a indurre in lui la reazione che abitualmente si ha di fronte alla violenza abbondando nei dettagli di carattere raccaperciante lo ha fatto perfino un regista per altri versi autore di opere a mio giudizio non indimenticabili ma importanti come Spielberg che non ha visto di meglio nel Salvate il soldato Ryan di esibire per circa mezz'ora tutti i possibili dettagli degli effetti dell'uso delle armi da fuoco e quindi grande profusione di sangue appunto di teste tagliate di arti mozzati ma in questo modo si rappresenta la violenza non so se qualcuno di voi ricorda un film che era stato prodotto dalla televisione americana è uscito nell'84 e avrebbe dovuto terrorizzare il pubblico allontanandolo quindi da quella tentazione che sembrava essere imminente della terza guerra mondiale il film si chiamava The Day After una delle opere cinematografiche peggiori che siano mai state realizzate che ha avuto tra l'altro l'effetto che verso la fine della proiezione invece che suscitare paura raccapriccio il pubblico aveva cominciato a ridere cioè si rideva di questa insistenza nel particolare truculento e allora io credo che sia difficile pensare che quella sia la strada attraverso la quale io posso dare un'adeguata rappresentazione della violenza non solo ma probabilmente capisco perché Eschilo mette in scena Bia e non gli fa dire una parola perché almeno dice c'è un problema di rappresentare la violenza non è che se io faccio esibisco con ciò stesso ho rappresentato la violenza e allora lasciate che faccia l'ultimissima citazione classica perché davvero ci aiuta se c'è come dire se ci sono testi che spesso trasudano violenza sono le grandi tragedie classiche provate a pensare a cosa succede nell'Edipo Re nella parte finale dell'Edipo Re e quanta violenza davvero viene espressa ma sulla scena non si vede nulla non si vede il suicidio per auto impiccagione di giocasta non si vede l'auto accecamento di Edipo non si vedono quei dettagli che solo una pessima regia può mostrare e i greci lo sapevano perché questi dettagli non vanno messi in scena perché sono obsceni cioè vanno tenuti fuori dalla scena ma vanno tenuti fuori dalla scena non per evitare di misurarci col tema della violenza ma proprio per poterci misurare col tema della violenza perché altrimenti l'effetto della esibizione innumerevole del dettaglio è quello che Aristotele dice è il raccapriccio non il pathos della tragedia il pathos della tragedia non è alimentato dal mostrare ciò che deve restare fuori scena perché è obsceno e allora voi capite che la violenza adeguatamente rappresentata c'è nei film di Hitchcock dove non troverete mai un particolare cruento e non c'è laddove invece assistiamo a questa compiaciuta e alla fine totalmente inefficace nel suscitare risonanze patetiche moltiplicazione di dettagli ma allora faccio l'ultimo passo finale allora forse l'esempio di Hitchcock ma un altro esempio non casualmente indicato è quello di David Lynch dove la violenza la respiriamo ma le scene più efficaci non sono quelle dove in velluto blu vediamo gli squartamenti ma quella di Lost Highway quando Mystery Man va a dire a una persona che incontra a un party io in questo momento sono a casa tua e questa persona gli dice ma stai scherzando di che cosa stai parlando io in questo momento sono a casa tua telefona a casa tua e vedrai che ti rispondo ecco questa breve sequenza ha una forza di evocazione della violenza che non hanno le tonnellate di sugo di pomodoro che vediamo in tante pessime opere cinematografiche ma allora se questa è la strada se questa è la direzione secondo me l'aspetto in cui converrebbe ma io ho finito il mio tempo approfondire la riflessione sul rapporto cinema-violenza non è il cinema che pretende dimostrarla ma è il cinema consapevole di essere esso strumento violento perché cos'altro è il cinema se non intervento sul tempo manomissione delle dimensioni temporali e cosa c'è di più intrinsecamente violento che toglierci i riferimenti gli assi temporali e spaziali che organizzano la nostra vita e allora possiamo davvero capire come uno straordinario film quale è quello di Christopher Nolan Memento che sovverte radicalmente la sintassi temporale è un film molto più violento di quanto non sia Salvate il soldato Ryan di Steven Spielberg grazie grazie spunti spunti molto interessanti devo dire e io adesso lascerei la parola anche al pubblico per porre anche io avrei molte cose da dire ma appunto è giusto lasciare la parola al pubblico per alimentare questo dibattito quindi se c'è un microfono che può girare eccolo là se non ci sono domande se no guarda che parlo io allora brutta storia vi aspettano va beh dico due cose io così chissà che qualcuno di voi intanto elabori una qualche questione dove domani io vado no perché le cose che ha detto Umberto adesso sono interessanti quando mi dice che appunto c'è questo elemento intressicamente evolente nel cinema quello che anche io all'inizio avevo in qualche modo evocato no che però dobbiamo appunto forse secondo me collegare con il bisogno poi lo sale ridicolo dicevi giustamente di rappresentare anche formalmente la violenza no perché dico questo perché in fondo questa violenza del cinema non nel cinema che credo sia difficile non riconoscere è un elemento di grande fascino perché andiamo al cinema e ci piace tanto andare al cinema laddove accade quello che Umberto ci ha spiegato molto bene accade la violenza estrema la messa in questione delle coordinate spazio-temporali della nostra vita però ci piace tanto c'è una fascinazione della violenza che è una fascinazione che forse si riproduce in quella forma ridicola che tu hai detto che è poi la rappresentazione concreta formale della violenza abbiamo in qualche modo bisogno di esorcizzarla questa violenza forse non lo so Tolstoi che è uno scrittore importante diceva che l'arte non tanto il cinema in quanto tale ma l'arte è una cosa che non ha certo inventato lui ma l'arte in qualche modo ha questa funzione di combattere la violenza di espungere la violenza della nostra vita ma sarà per questo che ci piace tanto assistere a scena di violenza e fare una esperienza violenza come quella di andare al cinema sarà per questo che la nostra società come diceva Guy Debord è diventata la società dello spettacolo perché dobbiamo anche rendere ragione di questo bisogno di come dire assistere costantemente ad uno spettacolo si è parlato anche oggi con Tronti della politica spettacolo ormai sì però anche qui io dico bei discorsi siamo tutti d'accordo che brutta questa politica che brutta la politica show talk show che belli discorsi dei ripartiti di un tempo che muovevano le masse e non la gente sì bellissimo ma dobbiamo anche rendere ragione di quello che sta succedendo non siamo mica tutti rincoglioniti voglio dire se le cose sono andate in questa direzione qualche motivo ci sarà e allora io credo che il cinema la violenza abbiano molto a che fare con il tema del festival con la spettacolarizzazione del politico in fondo quella violenza che un tempo si viveva e ancora oggi talvolta si vive nelle piazze negli scontri assume sempre più la forma dello spettacolo diventa violenza verbale diventa violenza dell'immagine e quindi io credo che sia importante anche non limitarsi a condannare nostalgicamente questa realtà e a rimpiangere un tempo passato c'è un bisogno in noi di spettacolo questa è la verità andiamo a vedere gli spettacoli andiamo al cinema andiamo a teatro andiamo alle mostre e vogliamo questa violenza di cui Umberto ci ha parlato e allora ecco che diventa un problema anche parlare intorno a questa esibizione che anche i media fanno della violenza che dicevo ha un effetto anestetizzante alla fine no è un problema ma non ce la caviamo dicendo che brutto mondo bisogna tornare al politico sono parole a vanvera queste bisogna in nome di cosa va bene che bisogna c'è un percorso che ci ha portato qui io credo che sia importante cercare di capire perché siamo arrivati qui da dove viene di cosa ci parla questo bisogno questa affascinazione e certo i giovani sono violenti sì ho capito ma non è che possiamo limitarci a lamentare questa cosa dobbiamo capire che questa dimensione della violenza non solo ha occupato la scena delle espressioni artistiche ma anche l'arte visiva anche l'arte visiva sta occupando la scena dell'esistenza umana e questo secondo me è qualcosa che va pensato radicalmente prima di dare la parola ai due relatori se vogliono io ripeto se qualcuno vuole interloquire con loro eccola 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 io penso che per esempio come in film come professione reporter la scena finale dove c'è il fuoricampo bellissimo lunghissimo rappresenta appunto il massimo della violenza perché ce la fa immaginare come diceva giustamente più è rappresentata meno io la concepisco e la sento è uguale per il film Funny Games che alla fine praticamente la scena in cui viene uccisa la signora viene gettata improvvisamente nel macqua senza una parola ed è una scena violentissima e non si vede nulla perché praticamente è un gesto e lei va in acqua e viene ammazzata però io penso che per rappresentare nel modo che il signore diceva la violenza non rappresentandola ci vogliono grandi capacità cioè non è da tutti riuscire a rappresentarla in quel modo perché è molto più facile appunto come fanno i ghostbusters i film quelli diciamo americani rappresentarla con grandi mezzi e stupendoci no e in modo eclatante in realtà non proviamo nulla perché in quelle scene non c'è affatto la violenza secondo me c'è semplicemente un'esibizione di sangue di cose eclatanti per poter fare come dice il signore come diceva Eschila una rappresentazione veramente forte e essenziale della violenza secondo me ci vogliono grandi capacità e bisogna essere degli artisti bisogna essere delle persone che veramente riescono a trasferire l'emozione senza rappresentarla ecco e nella politica per me è uguale no quando si va su Twitter si vedono parolacce insulti e a volte mi capita che persone che interagiscono mi assalgono ma non hanno argomenti se io tiro fuori un argomento scappano non hanno nulla da dire allora secondo me nei film in cui si viene rappresentata la violenza nel modo normale diciamo di oggi non c'è alcuna capacità e nessuna etroterra culturale ma c'è una domanda o è un suo intervento no se siete d'accordo scusi su questo fatto che purtroppo mancano probabilmente le capacità di rappresentarla delle persone che sono in grado di rappresentarla nel modo se voi secondo voi è una questione appunto culturale questa cioè di una mancanza di formazione per arrivare a quello ecco questa è la domanda beh certo non è facile appunto è più facile usare come si diceva prima il quinta latte di pomodoro c'è tutta la tradizione dei b-movies chi ha una certa età ricorderà i film di telecapodistia in cui nel western della domenica sera o dei film d'azione ma anche nel cinema italiano negli anni 60 i morti morivano con pirouette acrobatiche dall'alto delle case è ovvio che questo è il b-movies che ha anche un suo divertimento perché è così è talmente spudorato che è divertente quindi è chiaro che il fuoricampo il piano sequenza di Antonioni che esce che entra dalla finestra rientra dalla porta cioè questi sono rimasti nella storia del cinema per cui lei fa delle citazioni che sono ovviamente da manuale poi c'è il cinema di tutti i giorni ma io non credo che qui anche qui tra tutti quelli che sono seduti questa sera qui se li proponessimo alcuni film direbbero no perché io al cinema vado per divertirmi eviterebbero di andarlo a vedere ma il cinema è violento perché è la realtà che è violenta noi viviamo in un mondo violento punto quindi il cinema non è lo specchio allora come si diceva prima citando Deleuze oppure Guy Debord questo era già presente nei teorici del cinema tra gli anni 50 gli anni 60 e sono passati 50 anni quindi è evidente che la violenza è insita nella realtà dopodiché c'è una violenza della verità che è quello con cui avevamo accennato all'inizio e la verità in quanto tale in quanto molte volte sbattuta davanti allo spettatore è violenta e non tutti l'accettano come tale anche nella relazione di un film di impegno civile che non fa vedere sangue per esempio e quindi torniamo un po' allo slash iniziale la bellezza sta qui sta nel riuscire a raccontare con un linguaggio che evidentemente è anche violento una parte della violenza e lasciare alla evocazione il resto dopodiché come dire credo che a proposito di violenza e di fascino della violenza visto che è anche quasi l'ora di cena piacerebbe concludere con una famosa battuta quella che recita appunto Animal Lecture quando saluta Jodie Foster dicendo scusa adesso vado ho un amico per cena grazie Michele grazie Umberto se non ci sono altre domande ecco un'altra scusate ce n'è un'altra ma non è neanche una domanda perché lei mi ha già risposto e gli attori alle volte sono il nostro alter ego noi andiamo al cinema per sfogarci le nostre rabbie nove volte su dieci ci sembra un disgraziato da ammazzare spaccategli pure il cervello voglio vedere il sangue questo vogliamo per l'amor di Dio ci sono anche i bei film non è tanto che abbiamo visto Moliere in bicicletta Grand Hotel Budapest dove ecco se non te li propongono probabilmente ha un problema di cassetta non lo so comunque è questa insomma ma semplicemente due battute riprenderei assieme all'intervento uno spunto che dava Massimo e che formulava nei termini di un interrogativo cioè come mai la violenza esercita un tale fascino perché sembra che essa chieda di essere rappresentata per quale ragione siamo così irresistibilmente attratti dalla violenza ma il discorso ovviamente è lungo credo che questa tre quattro giorni qua di Mestre sia riuscita in larga misura a dare qualche risposta io ne vedo più un aspetto problematico che rimbalzerei anche a voi come spunto di riflessione immagino che sia stato al centro anche di quasi tutti gli altri dibattiti e per formularlo proprio davvero un passaggio di 30 secondi ritorno alla scena del prometeo incatenato dove il problema che si pone è che sono presenti via e kratos i quali non sono separabili e cioè secondo tutta una lunga tradizione mitologica il potere e la violenza i due servi di Dio stanno sempre insieme e non possono essere separati magari la violenza semplicemente assiste ma basta appunto la sua presenza ma non c'è mai kratos senza via e allora l'interrogativo da porci secondo me è una visione quella di Eschilo del mondo greco così remota dal nostro mondo attuale possiamo immaginare un kratos che sia senza via possiamo immaginare un potere che sia senza violenza possiamo non ottativamente perché perché come dire siamo anime belle immaginarlo ma possiamo concretamente progettare progettare un esercizio del potere che sia capace di emarginare del tutto la violenza possiamo immaginare una scena in cui c'è kratos che resta in scena e via che se ne va definitivamente la possiamo immaginare o forse questa rappresentazione della tragedia greca funziona come un monito a capire che malauguratamente le due cose non sono separabili e che con questo intreccio indissolubile potere e violenza dobbiamo continuare a fare i conti e che il fascino che la violenza tante volte esercita su di noi è perché è l'altra faccia del potere è l'altra rappresentazione del potere ed è per quello che ne siamo così irresistibilmente attratti sono domande mi piacerebbe che almeno alla domanda è separabile kratos da via ecco i nostri figli e i nostri nipoti visto che la mia generazione non è certamente riuscita a dividerli e a separarli sarebbe bello pensare che la prossima generazione è capace di declinare kratos senza via grazie a Umberto Curi grazie a Michele Gottardi grazie a voi alle 10 c'è lo spettacolo di Sabina Guzzanti grazie grazie a tutti grazie a tutti